Buonasera Alessandra, una bella prestazione da parte dell'LPM, si è visto qualcosa di importante soprattutto dal punto di vista del carattere, del gioco, che era forse la cosa che serviva di più in questo momento. Esatto, come stai dicendo tu siamo soddisfatti del carattere, della grigia e della ragazza che dall'inizio e alla fine non hanno mai bollato fino all'ultima palla e quello che ci aspettiamo da loro è quello che gli abbiamo chiesto più volte e ora lo stanno facendo non solo questa domenica ma anche quella scorsa e questo ci può ben sperare di fare un fine campionato, speriamo, vincitoso. Sicuramente sono soddisfatti di questa prestazione, il risultato almeno non poteva forse essere diverso perché con una giocatrice che sappiamo bene è stata a volte illuminata e ha una storia importante negli avversari e che noi come società non condividiamo come tutte le altre società d'Italia che continuano a ridere, che fa la differenza. Che ha un voto scorterizzato di più 29, la media normalmente è più 8, più 9 sui migliori, 34 punti fatti, 60 palloni attaccati, insomma cose che le donne, ahimè, purtroppo nel giorno e venti la natura non ci ha concesso di fare. Chiaro, con lei, se non c'è, senza giocare di tutti i giorni e venti ieri. E cerchiamo di prendere anche quello che di positivo appunto è arrivato da noi, sugli scontri diretti dobbiamo ancora giocare in casa, quindi insomma nulla è perduto e anzi... No, anzi, noi ora siamo più cariche che mai, quindi ora avremo lo scontro a Cisterna, poi Teserta, per cui concludere a Brescia, sicuramente Cisterna e Teserta sono due partite dove è importante fare tutti, quindi è importante fare quello che sappiamo fare e noi siamo pronte per finire al meglio questo campionato perché noi vogliamo restare in questa categoria, assolutamente, sportivamente parlando, questo significa voler vincere a tutti i costi, vincere sportivamente, grazie mille Presidente.